La ragione vado a fornire la parte rotta, ora ci sono i regali per mezzo e ci sono le cose che dobbiamo fare tutte sistemate. Sono stata truffata, in che senso, signor Arita? Sì, ho filmato un foglio bianco con la mia firma sotto, mi hanno un signore, un signore non faccio nome, lo conoscete bene tutti quanti. Mi ha fatto mettere una firma su un foglio bianco tre anni fa, quattro anni fa all'inizio che io ho fatto le canzoni e si è presa tutti i miei diritti e tutti i miei beni, Spotify, YouTube, tutte cose, tutte le piattaforme, tutto, si è preso tutto, si è preso tutto, si è preso tutto, si è fatto una marea di soldi su di me. Poi un'altra cosa, comunque in una giornata, in una serata, abbiamo scoperto tante di quelle cose, ve lo giuro sul cuore di mio figlio, che ieri mio figlio stava passando un guaio. Attenzione! Uè Mara, mi stanno a capire, solo metti in capisci, va? Paù! Sì, è che tu non hai detto? Solo metti in capisci, va? Ciao! Senti mi stai lasciando mettere troppo qua E' se non ci fanno bene E' se io spettacolo qua O la tua dove sta la vicina Ma lui ha fatto la succhia L'ha risposto tutto cosa E' lo scoccio vicino a mano Volevo un favore? Volevo provare Volevo provare Volevo provare Buongiorno E' guagno Volevo provare Laura sta facendo C'è il marmo Tutto la roba andano Mi carica le scrivo Belle Lei è molto simpatica In privato Si chiariscino in privato Ma guarda Cosa ti scelto qua da sotto E' va niente Cosa? 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 E' quello che lo metto là sotto E' non so Cosa? E' a casa non c'è E' già c'è Come? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? No, c'è c'è proprio c'è Cosa 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 c'è uno schifo, uno schifo, hai due comunità che non hai tu, gli altri temi di mettere sì, pensate un po', ho sbagliato, cioè dove devo arrivare questo mio sbaglio, questo mio errore da te affermi, cioè noi ci abbiamo detto guarda che cosa, perché se che cosa si presenta nella comunità pure un mese, basta un mese, loro devono fare per forza la prassi che è così, mi ha fatto capire l'avvocato e tutte le persone importanti che mi stanno aiutando, che Checco deve andare pure un mese in comunità e mio marito riaprirà la patria potestà perché è andato tutto bene con Zasa, abbiamo fatto tutti i percorsi e stanno tutti bene i percorsi, ma Checco il 15 ottobre fa 16 anni e non è più obbligo la terza media, va bene, però lui deve andare per forza nella comunità, allora io ieri ho pianto tutta la nottata e tutta la serata non sapete quello che ho mangiato fino a di fa' perché ho sbagliato io e questo mio figlio non può pagare i miei peccati, perché poi l'altro mio figlio nel mondo non è nato una terza media, a Rosario non sono venuti i servizi sociali, si sono accaniti su mio figlio Checco, va bene, ci stanno pure, sono un po' sociali, perché mi volevano rompere le giardelle, mi hanno puntato, però ora mai si deve finire questa cosa se lui, avvocato, rita, basta, zitto, occhio avvocato, poi l'altro, va bene, avvocato e basta, lo deve fare per me, lo deve fare per me, solo questo, e basta, perché se si presenta, si finisce tutto in buon fine, se lui si presenta, loro fanno i loro diritti, i loro doveri, pure loro, perché ci sono gli avvocati, i magistrati, che si fornisce tutto cosciente, ha detto, guarda che se tu ti presenti, noi in inverno ci andiamo a fare una bella vacanza insieme, quello che non hai potuto fare sulla crociera con mia mamma, eppure loro me l'hanno promessa, va bene, ha detto prima, no, no, cazzo, tutto, comunque, io ne rendo pure, quello che fai a tutti, i figli sono quelli dei pacchi, chi sta a me mi staccerendo, mi staccerendo, uuu, io ne è stata proprio, se mi sei marivolo, con la me che mi ha rubato, io figlio Rosario, cattendo, ammazzato, no, cazzo, qui togzi i fibri del palo, con la me che si staccia, il potuto, cacciato, le ne ha parlato, mi staccia, l'amma, eppure loro, come che fai a te te. Niente, buon freddo, i gastro, come ci sono i staccerendo, i staccio, le vuoi ci sono i staccio, e non devo scyfri, le vuoi ci sono i staccia, e non ho un po' che riesolo, non ho il mio, ci staccio, o l'acchia, le vuoi ci sono i staccia, un po' che, non è troppo, non ho, quando sta a me ci staccio. Grazie a tutti.